Il Comune di Teramo interviene pesantemente a dare una mano ai ristoratori, ai bar e a tutti coloro che somministrano cibo e bevande. Lo fa concedendo loro di raddoppiare l'occupazione di suolo pubblico, sburocratizzando le procedure necessarie, ma soprattutto a costo zero. Buona notizia per ristoratori e bar, potranno raddoppiare lo spazio esterno a costo zero? A costo zero perché nel Comune di Teramo il canone COSAP non si paga, non si paga già da un anno, non si pagherà fino a dicembre del 2020. È un'azione che abbiamo subito prodotto a seguito del documento dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Ineil, quindi noi siamo pronti a concedere suolo pubblico con procedure semplificate a tutti gli operatori e rapide soprattutto. Quindi adesso attendiamo il nuovo decreto, attendiamo la nuova ordinanza regionale, se ci fosse un'apertura già dalla prossima settimana saremo pronti a riprendere tutte queste pratiche che sicuramente gli esercenti ci invieranno. È una modalità che abbiamo messo in campo immediatamente per ovviare queste misure di mitigazione delle persone che possono essere contenute all'interno dei locali. Basterà fare una domanda? Sì, basterà fare una domanda, la procedura amministrativa è la procedura amministrativa semplificata, quindi non sarà necessaria la convenzione, ma semplicemente le commissioni che si riuniranno un paio di volte a settimana potranno già autorizzare l'occupazione di suolo pubblico. Non solo, abbiamo evitato di dare ulteriori costi a queste attività che hanno problemi sicuramente di liquidità in questa fase, prevedendo un pagamento posticipato dell'assicurazione sui luoghi, per il ripristino dei luoghi, con un pagamento della prima rata a dicembre. Quindi dimezzamento di questo costo con la prima rata a dicembre. Quindi praticamente si può occupare solo pubblico senza nessun costo in questa fase. La decisione di concedere il doppio di spazio pubblico agli esercenti della ristorazione a costo zero farà di Teramo un capoluogo con un centro storico molto più arredato e accogliente. L'importante è che si riparta subito, come chiedono accorati ristoratori teramani, che navigano ancora nell'incertezza delle regole di distanziamento. Intanto sabato prossimo riaprirà il mercato dei fiori a largo Madonna delle Grazie. Grazie.